Si era partato in una via del centro di Taurianova per vendere dosi di marijuana ad un acquirente, ma è stato sorpreso dagli agenti delle volanti del commissariato di polizia. Un 22enne è stato arrestato in flagranza di reato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I poliziotti, nel corso di servizi mirati al contrasto dello spaccio di droga, hanno individuato i due in una stradina laterale della cittadina del Regino. Il pusher, alla vista della vettura della polizia di Stato, ha tentato la fuga ma è stato subito bloccato. Sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di una busta in cellophane contenente un notevole quantitativo di marijuana essiccata. Nelle tasche dei pantaloni, inoltre, è stata trovata altra sostanza già suddivisa in dosi e pronta per essere venduta.